E non creda a monza vicina, si donna tale vivo, e lo prepagia a cuore. Hosanna figlio di Davi, Hosanna. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calce e dopo averlo in sopra, lo diede a loro dicendo, bevetene tutti, perché Cristo con Cristo è in Cristo, Padre Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, con l'onore e gloria per tutti i secoli e per i secoli. Voi disse loro, capite quello che ho fatto per voi. Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e il Maestro ho lavato i piedi a voi. Anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Il Signore sia con voi, e con il tuo Spirito, dal Vangelo secondo Matteo, gloria a Deo Cristo. La Chiesa, diffusa su tutta la terra, è qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa e Vescovo, Francesco, e tutto l'Ordine Sacerdotale.